Vieni a scoprire la storia prima di Biancaneve. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Tu, mia regina. Tua sorella ha una bambina che diverrà assai più bella di te. Dimmi che cosa hai fatto! No! Con la magia dello specchio, io dominerò il mondo. La partita non è finita. Prepara i cacciatori. Lo specchio è malvagio e pericoloso. Va distrutto. Sono più forte di tutti voi. Vogliamo scoprirlo? La storia prima di Biancaneve. Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Da mercoledì 6 aprile al Cinema.